Io vorrei chiedere al professor Faggin, che è qui in sala, se vuole fare un saluto. Sì, doveva partecipare alla tavola rotonda, non è potuto venire prima, ma insomma, è qui. Conoscete tutti il professor Faggin, inventore del chip, del touchscreen. È un piacere essere qui con voi, discutere in un modo alternativo o aggiuntivo, direi, di vedere la medicina. Certamente molte cose che sono pericolose, ma fanno parte del nostro mondo, trovano molta resistenza ad essere, come abbiamo visto adesso. trovano molta resistenza ad essere ammesse come pericoli, quindi viviamo in un mondo abbastanza difficile oggi. Io non mi interesso di queste cose, mi interesso della natura della consapevolezza, che è un altro elefante, se vogliamo, nella stanza. Cioè, il fatto che la scienza ci dice che la nostra coscienza, la nostra consapevolezza è prodotta semplicemente dal nostro cervello e non c'è niente altro, quindi quando il cervello se ne va, con il corpo, se ne va, chi siamo, sparisce. Questo è certamente l'effetto di una visione materialista che parte dalla idea preconcetta, perché non c'è nessuna prova che sia così, che tutto ciò che esiste è materia, quindi noi siamo materia, quando la materia se ne va, il resto se ne va con essa. Io ho studiato la coscienza personalmente per 30 anni, sia in prima persona come in terza persona e sono arrivato alla conclusione che non è proprio così e non sono il solo. E questo è un altro aspetto della realtà che purtroppo la scienza attuale non vuole sentirne parlare, vuole rimanere legata a questi principi materialisti, che è il riduzionismo, quando invece anche la fisica stessa, a livello più profondo, ci dice che viviamo in un mondo olistico, cioè un mondo che non è fatto di parti separabili, ma che è invece fatto di campi in sorvaposizione. Questo è esattamente quello che ci dice la fisica, ma siccome è difficile da capire, e la meccanica classica fatta di particelle separate che interagiscono tra di loro, che è la visione di cent'anni fa, è molto più confortevole ed è quella che generalmente gli scienziati oggi considerano il modo in cui funziona il mondo, non solo, ma in cui funziona anche la vita. Io sono arrivato alla conclusione che la vita è essenzialmente quantistica, cioè fatta di campi, di campi, e quindi le proprietà della vita non sono assolutamente identiche o uguali o simili alle proprietà dei computer. Quante volte avete sentito scrivere dappertutto che il cervello è come un computer? No, il cervello non è come un computer, è estremamente diverso dal computer. E quindi noi siamo condizionati a pensare che siamo macchine, quando invece siamo molto di più di macchine. Quindi ho scritto un libro, si chiama Silicio, appunto per raccontare la storia della mia vita, ma soprattutto come sono arrivato a queste conclusioni e quello che è l'essenza di questo percorso che ho fatto negli ultimi trent'anni è la scoperta della natura della mia coscienza che è la natura della coscienza di tutti noi. Grazie. Grazie, grazie professore.